ciao amici ciao amiche bentornati sul canale di coppia davide e chiara bene ragazzi oggi comincio io il vlog nel canale di coppia stiamo andando da dove stiamo andando amore? da Excho perché ho visto una cosa bellissima guardando un vlog di Nicole Gimondo io lo seguo tra l'altro la consiglio seguitela perché merita e ho visto una cosa che assolutamente non posso non prendere spero di trovarla ragazzi spero guardate che bella mamma ha detto col codino col figo dai mamma è caldo no mio marito non sa che cos'è non ve lo dico neanche a voi finché non arriviamo a casa non ve lo spero vi farò vedere quello che abbiamo comprato in questo vlog ti piace a voi? è il suo vlog eh? ti piace l'idea? non so cosa vuoi prendere ma oh la conad è gigantesca ciao conad vabbè e niente ragazzi ci vediamo una volta arrivati da vi faremo vedere anche i nostri outfit of the day e comunque fa caldo palle si può dire si può dire anche se non ci può io lo dico c'è due boys veramente ragazzi siamo da Tamoy ci siamo fermati prima di imboccare l'autostrada guardate la benzina 1,69 ottimo infatti adesso farò benzina allora ragazzi siamo appena arrivati da action adesso vi faccio vedere una cosa eh è il Natale calendario dell'avvento qua ci sono prezzi della lotto che potrebbero essere interessanti ma anche nere queste sono interessanti a un prezzo veramente vantaggioso eh vabbè 3 paio a 2 euro vi faccio vedere il reparto autunnale e ho scoperto cosa doveva prendere questo cos'è? un luco? sì una volpa che tiene una volpina no una volpina una volpina bandi bella il reparto autunnale non mi piace eh non mi piace questo cos'è? non mi piace questo cos'è? 3,95 molto buono però non lo so è bella eh perché per carità mi serve un'altra di queste vabbè qua ci sono set di viti pomonte che però le punte vado dalle ruo merland queste sono punte punta diamantata sì 2,78 legno, pietra e metallo 4,69 guardate in portafoglio questi qua sono belli piccoli sono interessanti eh anche se ho quello che ho ne ho di portafoglio lo sapete è una collezione anche questa per me portatessere guardate che però io ce l'ho molto più bello onestamente però anche questo qua per 5 euro non è male c'è già la roba natalizia ma andrea non è male ora lo posso vedere qua ma che meravigli calendario dell'avvento che bello guarda già le cose della pit car milk tantissimo ma è troppo presto però che bello i fiocchetti degli uomini queste polle coca sono 83 centesimi le luci questa grande guarda qui i villaggi ecco questi qua piccolini erano i più belli ottimo poi c'è tipo ma penso che sia si gira perché c'è babbo natale col mule altro che quelli della lemax guardate questi uno di questi uno di questi questo qua questo qua è fatto di un villaggio questi miei amici qua mi stanno iniziando a stare sui sulle pini e ragazzi c'è un sole che non so cosa si vedrà allora abbiamo preso le cose abbiamo proprio fatto un tour de force cioè velocissimo sono andata per una cosa per 800 cose in realtà e sono molto contenta sono veramente non riesco a vedere nulla con questo sole però spero che si veda penso che dovreste vedere voi adesso stiamo andando a prendere mia mamma a casa e la portiamo a casa di Sharon perché poi da lì vanno al ristorante e quindi facciamo così perché se prende i mezzi non fa il tempo e allora mia figlia mi ha chiamato mi ha chiesto sa giuntilezza e perché lei non riusciva a passarla a prendere e ha detto si non c'è problema e adesso andiamo a vedere poi favo intravedere il suo outfit vediamo comunque dopo vi faccio del nostro noi penso che stasera mangeremo una pizza una pizza amore? si si la pizza o un mcdonald però penso di più la pizza e vi faccio un bel mukbang ragazzi bene amici siamo arrivati in in fattoria in fattoria siamo arrivati in siamo arrivati in pizzeria in pizzeria amore stavo dicendo in passeggeria siamo arrivati in pizzeria ho ordinato adesso sono venuto in macchina perché c'è eh tanta gente che sta ordinando per portare a casa però fa male l'aria nei denti eh si porca paletta adesso inizia anche lui la cura con l'antibiotico così subito passa poi andremo alla dentista a vedere se c'è dato di vitalizzare da da fare un'otturazione beh comunque eh nonostante ho un mal di denti ma ho fame si ci fanno anch'io eh mangiando di là e niente poi appena arriviamo a casa la mia moglie vi farà vedere le delizie delle pizze e le delizie sue che ha comprato perché delizie non so perché mi è uscito no la pizza la facciamo vedere così veloce perché faccio il mukbang esatto e le cosine no anche tu ha facciamo vedere insieme sì ma allora ragazzi eh vi faccio vedere io velocemente le cose che abbiamo preso da action perché mio marito appunto non sta tanto bene adesso poi ve lo farò salutare eh non ci può parlare e aspettare di prendere l'antidolorifico comunque brevemente ho preso questa zucca bellissima come vedete vi ho inquadrato quelle che erano dorate ma non mi piacevano questa qui con l'argento ce n'era solo una ed è esattamente questo che ho visto da Nicole è una led eh 12 led bisogna mettere la pila e me la faccio vedere meglio è veramente bellissima fa un bel figurone chissà accesa che bella che è e dentro ci vanno aspettate che ve lo dico tre pilestino molto bella non vedo l'ora di fare le decorazioni autunnali poi abbiamo preso ho preso due di queste tazze che come vedete non sono da caffè ma ehm potrebbero essere per il cappuccino hanno una grandezza particolare non sono né grandi né piccole è una via di mezzo quindi queste hanno bene per il cappuccino e guardate che belle che sono cioè bellissime pagate 95 centesimi l'una o 93 mi ricordo comunque ne ho prese due perché sono molto molto carine dovete prendere troppo belle davvero bellissime poi ho preso questa lampada stupenda stupenda questo vabbè è il suo cartellino questa qui pagata vi faccio vedere com'è in questo modo poi uno può mettere c'è luce fredda luce calda e è molto bella perché è fatta con questi specie di diamantini queste cose che vanno a richiamare il lampadario che ha le stesse gocce non ve l'ho fatto mai vedere con le gocce attaccato lo vedrete perché vi ho sempre fatto vedere senza gocce e appunto così mia mamma quando io non abitavo qua le aveva buttate perché erano gialle ma in realtà bastava lavare venivano pulite però io le ho ricomprate tutte questi cristalli le ho ricomprate tutti e appunto adesso le sta mettendo mio marito comunque questa è fatta così sotto il tipo di velluto la base in argento mi piace che il filo sia trasparente ha il pulsante escendi e spegni ed è veramente bellissima ce n'era solo una così poi ce n'era un altro modello sempre così ma ha una forma diversa ma in realtà va bene perché mi piace se dovessi vederne un'altra prendo però sinceramente mi serve una perché la uso per la sala non le uso per la camera anche se sono molto belle ma uno stile che si adatta di più per richiamare questo appunto lampadario poi 13 euro ragazzi qualcosa di irrisorio ho preso addirittura già anche la lampadina e me la faccio vedere questa ho preso aspettate ok ho preso questa appunto della philips 60 watt credo che fa 806 lumen e led insomma questa lascio vedere poi la devo mettere questa qua che rimangono bianche molto molto bella se lo avvito subito ok l'ho messa e ci sta molto bene questa qua poi abbiamo preso ho preso perché ho scelto io questa bellissima stella rifinita con questo bordo oro bellissima questa qua pagata 5,90 ma è fatta benissimo è 30 per 30 per 5 cm di altezza è veramente stupenda fatta benissimo c'era anche più piccole però ho preso questo questo è nel reparto che stanno allestendo per le cose di Natale questo è anche come usata per la tasca qualcosa così o per appunto Natale insomma per centro tavola un po' di cose questo invece l'ha preso mio marito è un dopo barba dell'AX AX after shave invigoration citrus invigorating beh è quello africa che è buonissimo profumo buono chi lo conosce poi poi staccato questo qua così mio marito ha preso le calze queste qua della lotto numero 43 46 ce ne sono 3 paia pagate 2,90 euro sia bianche che nere della lotto ottimo prezzo e poi ho preso un po' di schifezzame che lì ci sono cose un po' particolari e ho preso allora il kitkat crunchy white poi sneakers creamy peanut butter è diverso non è come il solito comunque è interessante poi ho preso il lion questo qua white l'avevo già assaggiato e mi era piaciuto e poi ho preso questo halloween edition perché già anche le cose di halloween avevo messo fuori però non c'era nulla che mi interessava anche perché ho già tutto guardate che belle queste m&m's di halloween ho questa qua assolutamente le devo mettere via perché non ho intenzione di aprirle fino ad halloween sono proprio belle anche come è fatto così quindi sono prodotti olandesi e fanno tante cose molto più di belle più caratteristiche rispetto a quelle che si trovano qua e mi piace molto action è un bellissimo negozio ora vi faccio vedere un pezzo bellissimo che ho comprato e che ho pagato solamente 9 euro e 98 ora vi faccio vedere allora ho preso appunto ehm quanti sono questi dodici rotoli di carta igienica rosa che li ho presi anche quando la nostra prima volta mi sono tratta bene e ragazzi ho preso questo tavolino che è bellissimo cioè mai avrei pensato di pagarlo 9,98 anche perché questi si li vedono in giro da zara da hmum da coin queste cose così e oppure da maison du monde che costa tipo 50 euro ma qua da action tutto diventa realtà cioè guardate che bello che è ragazzi è bellissimo è fatto così lì praticamente ha le gambe ce li ha tipo specchiate di alluminio è molto bello è già dotato di gommini come potete vedere e si apre e diventa così molto molto bello sta bene messo in un posto ben preciso che ho già in mente magari anche con questa lampada qua sopra magari anche con questa lampada sopra non so vediamo magari prima ci metto tipo ci metto tipo un vedete quel tovagliette tipo rotonde in paglia oppure oppure no anche così sta bene bellissimo cioè 9,90 ragazzi qualcosa di di irrisorio veramente e molto bello è nulla io spero che il vlog vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia magari amore vi vieni a salutare anche tu ciao ciao bene ragazzi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao